Con il concerto degli Editors che ieri ha portato un tocco internazionale in Piazza Duomo a Prato si avvia alla conclusione il calendario dei concerti in centro storico del Festival Settembre Prato e Spettacolo che poi si sposterà a Villa Guicciardini in Val di Bisenzio per le ultime due date. Stasera tocca uno dei mostri sacri della musica italiana, Edoardo Bennato, salire sul palco di Piazza Duomo. Si tratta del quinto appuntamento dopo quello d'esordio con gli articolo 31 che ha entusiasmato il pubblico pratesi, quello doppio di Silvestri e Bugo, la serata con Panariello e Masini e appunto quello con la band inglese degli Editors capitanata dal carismatico frontman Tom Smith. Dopo Bennato, il programma in Piazza Duomo del Festival prevede l'ultimo atto con il concerto della Camerata Strumentale Città di Prato che domani, diretta da Jonathan Webb, festeggerà il settembre cittadino con il consueto spettacolo ad ingresso libero. Per farlo quest'anno ha scelto due pietre miliari nella storia della civiltà, due tra le partiture più note del repertorio sinfonico, il flauto magico di Mozart e la quinta sinfonia di Beethoven.